e adesso un altro personaggio che ci lega moltissimo c'è ancora Schindler List? ok, questa era la prima parte di John Williams adesso abbiamo ancora Schindler List che è un film drammatico in cui fa una colonna sonora assolutamente all'altezza del drabba del film grazie a tutti 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 grazie a tutti